Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono happy. Sì ragazzi, perché sono lieta di annunciarvi Barella, Barella all'Inter. Sicuramente lo saprete già, io ieri sera quando sono rientrata a casa, mio papà me l'ha subito detto, io sono esplosa di felicità, però dato che era tardi, ieri ho deciso di registrare oggi. Barella è un nuovo giocatore dell'Inter, per quanto mi riguarda forse in assoluto questo sarà l'acquisto top di quest'anno, perché Barella innanzitutto è un ragazzo giovane, abbiamo avuto modo di vederlo giocare al Cagliari, a me stra piace come centrocampista, sicuramente saprà dare tanto all'Inter, voglio sperare, ma sicuramente sarà così. Poi tra l'altro su Instagram girano anche foto di Barella quando era piccolino con la maglia dell'Inter, quindi questo non fa altro che incrementare la gioia di tutti noi tifosi. Quindi si è conclusa per Barella, 45 milioni, è arrivato già Milano, infatti ci sono già i video che circolano su Facebook, Instagram, insomma sui social, e adesso lo attendono visite mediche e firma. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo giovane, di Barella e soprattutto se ci speravate, nel senso è un acquisto che vi piace oppure no. A me tantissimo non si è visto, a me piace davvero tanto, tanto 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 Barella e ci speravo. Quindi sono ovviamente contenta, abbiamo un pochino tremato forse quando c'è stato questo inserimento nella trattativa della Roma, però voglio dire la volontà del giocatore la sapevamo tutti. Il giocatore ha sempre detto di voler andare all'Inter, anche perché ragazzi parliamoci chiaro, l'Inter sta mettendo in piedi comunque un progetto notevole, la società sta lavorando insieme all'allenatore Conte per mettere comunque in piedi una squadra che sia almeno competitiva, che riesca ad accorciare anche le distanze in campionato, perché sappiamo benissimo che la Juve è la squadra più forte del nostro campionato. Io non ho problemi ad ammetterlo, figuriamoci, quando c'è da essere sportivi lo sono, per cui almeno tentare di accorciare le distanze dalla Juve e di rendere un pochino più vivace questo campionato. Squadre che sono rimaste dormienti, compresa l'Inter, dovrebbero cominciare a svegliarsi ed è proprio questo l'obiettivo dell'Inter, cominciare ad ingranare, a diventare l'Inter di una volta. Questo è un processo che ovviamente ha bisogno di tempo, però io sono davvero fiduciosa, sono davvero fiduciosa perché l'Inter secondo me sul mercato si sta muovendo bene e adesso aspetteremo anche di sentire nuove notizie riguardanti Lukaku, anche se hanno già messo le mani avanti dicendo che comunque sarà una trattativa complessa da concludere. Vedremo anche dove verranno collocati i cardi soprattutto, ne in Golan, coloro che sono stati esclusi categoricamente dal progetto, però adesso festeggiamo per l'arrivo di Barella. Quindi benvenuto Barella all'Inter, forza Inter sempre, ma quando inizia il suo campionato io non ce la faccio più, non ce la faccio più, voglio la mia Inter, voglio la mia Inter. Sclero, sclero, fatevi sapere come state voi, cosa ne pensate del mercato, faremo bene, non faremo bene, siete fiduciosi o non siete fiduciosi. In questa Inter che la società insieme all'allenatore stanno mettendo in piedi, fatemi sapere tutto quanto sotto nei commenti, vi dico sempre forza Inter e ci vediamo alla prossima.